si può tornare a giocare a yugioh nel 2023 i nostalgici intenti a riprendere in mano il proprio deck cosa dovranno aspettarsi e quali saranno le linee guida da seguire per tornare ad essere performanti come ai bei vecchi tempi nel video di oggi troverete la risposta a queste domande signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale negli ultimi giorni mi è nato il pallino per yugioh dato che sono tornato a collezionare i vari volumi della ristampa del manga per chi mi segue anche su instagram ha visto più stories dove ne parlavo e guardando nuovamente tutte le puntate dell'anime ed essendo anche un giocatore di speed duel e due links mi sono detto perché non tornare ai vecchi bei tempi rispolverando il mio amato mazzo cyber drago e così mi sono recato in fumetteria dove ho avuto modo di giocare con michael un duellante veterano di yugi durante la preparazione del match gli ho spiegato che non giocavo da molto e alla sua domanda da quanto la mia risposta è stata tipo 17 anni infatti la mia ultima espansione è stata rivoluzione cibernetica alla quale ho accompagnato il set di zain della serie gx a tale affermazione mi è stato risposto devo dirti yugi è cambiato tanto negli ultimi tempi adesso vediamo se il tuo mazzo regge botta insomma al che dopo questa asserzione ho pensato ma quanto vuoi che sia cambiato le dinamiche sono sempre quelle no evoco mostro posiziono magie trappole e così via nulla di tutto ciò vi dico solamente che più che un match è stato come assistere ad una specie di solitario detto in breve ha iniziato il mio avversario che mi ha bloccato alla fine del suo turno tutte le zone magia e trappola bloccate nel senso che non potevo giocarle quindi nella mia main face ho posizionato un mostro ma prima di concludere un altro turbinio di effetti innescati dalla moltitudine di creature avversarie evocati specialmente da non so dove mi si è scagliato contro creando una catena che oltre a distruggere l'unico servitore che avevo sul terreno mi ha anche bloccato quattro delle cinque zone mostro e a questo punto vedendo la situazione non volgere per il meglio a dire la verità non potevo proprio giocare l'unica alternativa che mi è rimasta è stata guardare il tavolo da gioco e grazie è stato un piacere beh dai non è andata male dopo tutto una carta l'ho giocata una e va bene dai è stata una totale disfatta non contento quindi di come siano andate le cose ho iniziato a cercare informazioni sul web scoprendo come attraverso gli anni yugi abbia perso completamente l'identità che ricordavo allora per recuperare un po di terreno perso mi sono rivolto ad uno dei maggiori esponenti di yugi in italia ovvero umba del canale umba tcg chiedendo gli informazioni e consigli utili rivolti a chi come me ha pensato di riavvicinarsi al gioco dopo anni di assenza e per mia grande fortuna ha accettato di buon grado prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi per voi è solamente un click per il canale invece molto importante in questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati in più non dimenticatevi di seguirmi anche su instagram e la pagina facebook dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora troverete i link in descrizione grazie ancora in anticipo torniamo al video ed ora scopriamo assieme quali saranno i vari consigli da tenere a mente se vorrete riprendere a duellare nello sconfinato universo del tcg di yugi oh andiamo a dargli un'occhiata dando il benvenuto ad umba ciao ragazzi ringrazio l'arconte per avermi dato la possibilità di intrattenervi in questo video sono umba tcg ed ho un canale chi l'avrebbe mai detto dedicato ai giochi di carte prevalentemente yugi e magic grazie infinita a te per aver accettato il mio invito iniziamo subito con la prima domanda dato il caos di carte presenti nel gioco qual è il primo consiglio che daresti a chi vuole iniziare a duellare o come me riprendere in mano yugi dopo una lunga assenza ci sono infinite ovvietà che potrei dispensare in questo momento ma per chi vuole iniziare o tornare dopo tanto tempo penso sia fondamentale comprendere almeno queste due cose parto dicendo che yugi si è evoluto in un qualcosa che difficilmente rispecchierà quello che ricordate voi dei tempi d'oro e mi riferisco con tempi d'oro alla vostra infanzia o adolescenza quindi per intenderci quando giocavate con gli amici il mazzo iconico del cuore visto nell'anime e tiravate il mostro grossone sul tavolino che picchiava e che ogni volta che lo giocavate o entrava gratis o cambiava effetto o comunque faceva cose diverse tante master rules si sono avvicendate da allora e sono stati introdotti molti metodi nuovi di evocazione il pool di carte disponibile si è allargato di parecchio e il gioco è spesso abbastanza sbilanciato verso un playstyle combo con chiaramente tutto quello che ne consegue in sostanza quello che sto cercando di dirvi è che molto probabilmente se non toccate yugi da tantissimi anni quello che vi aspetta ora è un qualcosa di totalmente diverso rispetto al gioco di tanti anni fa non è detto che sia per forza un qualcosa di negativo ma penso sia importante precisarlo subito arriviamo quindi al consiglio se decidete di tornare in pista vi prego vi prego non acquistate prodotti a caso e per prodotti intendo sia scatole sigillati sia mazzi venduti da giocatori in gruppi privati o siti dedicati solitamente quello che accade è questo il nostro potenziale player ritrova dopo tanto tempo il suo vecchio deck in giro per casa con qualche click su google scopre che sono uscite delle carte per il mazzo rimedia la prima lista che trova su internet ordina le carte sui siti senza paragonare i prezzi del mercato monta il mazzo e lo va a giocare a local più vicino e senza alcuna sorpresa viene pestato malamente a seconda di quanto è severo il pestaggio o abbandona subito il gioco con colorite imprecazioni ed è più che giusto oppure è costretto a spendere altri soldi per fixare il deck con carte generiche o ancora si ritroverà costretto ad abbandonare il suo tema del cuore per acquistare un qualcosa di più moderno e competitivo chiaramente spendendo ancora altri denari vi ho raccontato questa storia triste ma vera solo per sottolineare quanto sia importante innanzitutto dedicare del tempo ad imparare e capire il gioco moderno questo anche per poter valutare al meglio il livello di potenza del proprio deck e di quello degli avversari potete riavvicinarvi a yugi e testare i mazzi del caso tramite i simulatori non ufficiali gratuiti tanto per citarne alcuni edo pro yugi omega dueling book e chi più ne ha più ne metta alternativamente anche master duel va benissimo ricordatevi solamente che lì le partite sono secche mentre nello yugi o reale perdonatemi il termine si gioca al meglio delle tre e c'è disponibile anche una side ho sentito nell'ambito di yugi parlare di power creep di cosa si tratta e come può un nuovo giocatore affrontare al meglio questo fattore qua è importante mettere subito le mani avanti perché il power creep oggettivamente è presente in ogni tcg sul mercato in qualche forma colore o dimensione c'è da dire però che yugi soprattutto negli ultimi anni è diventato molto più marcato e percepibile per chi non conoscesse il termine in sostanza il power creep consiste nella stamperia di carte del caso che periodicamente stampa nuovi pezzi di cartone scintillanti più generici o temi sempre più forti e di qualità rispetto a quelli che sono attualmente disponibili nel gioco in yugio non c'è una rotazione del set come ad esempio nello standard di magic quindi l'unica cosa che fa ruotare via i mazzi dal meta è questo benedetto power creep che li va a rendere piano piano obsoleti oppure mamma konami che decide di sparare ad un tema o ad una strategia tossica in una delle sue banlist col fatto che i deck veramente rilevanti solitamente hanno un ciclo di vita abbastanza breve nel quale sono a piena potenza e quindi tre sei mesi un anno al massimo chi vuole sempre giocare con le carte migliori i mazzi più performanti purtroppo deve prepararsi a stasciare la carta gialla di zio peppo abbastanza spesso durante l'anno ad un nuovo giocatore posso solo consigliare di seguire il meta del momento con attenzione per poi scegliere un mazzo rogue o al massimo tier 2 quindi non fortissimo ma almeno giocabile in maniera affidabile in questo modo sarà solitamente al sicuro da potenziali hit della banlist ridurrà al minimo i costi e avrà comunque fra le mani un mazzo performante per tanti mesi o con un po di fortuna addirittura anni quindi se ho capito bene partecipare con un vecchio deck cyber drago non mi avrebbe fornito le armi per portarmi a casa la vittoria assolutamente no ma inizio complimentandomi per il coraggio nel giocare cyber drago nel 2023 purtroppo al momento esiste un divario enorme fra i mazzi realmente giocabili con la speranza di portare a casa diciamo un risultato almeno accettabile ad un local e la miriade di deck abbandonati a loro stessi o magari supportati sì da konami ma con carte non abbastanza forti immagino che per una persona fuori dal gioco possa sembrare un qualcosa di pazzesco ma la situazione è questa è brutto da dire ma yugioh magari non volutamente vive molto grazie a questa finta convinzione dell'avere sempre carte e temi giocabili che spesso è proprio quello che porta tanta gente a ricominciare spinta dalla nostalgia e come ho già raccontato prima quando poi va a scoprire la realtà ormai è troppo tardi e quindi ha già speso cifre importanti per un mazzo o più deck che oggettivamente sono obsolete magari non possono più combinare nulla neanche ad un local o ancora peggio sono ingiocabili anche fra amici ho notato anche un altro cambiamento davvero importante che quando giocavo io ai primi tempi era praticamente assente il rulings che è diventato un fattore fondamentale per riuscire non solo a conoscere meglio il proprio mazzo ma a gestire anche quello dell'avversario come mai tutte queste cavilosità a livello di regolamento penso sia importante spiegare effettivamente cosa sono i rulings semplicemente sono affermazioni ufficiali da parte di konami riguardo al funzionamento di alcune carte o effetti in situazioni particolari dove semplicemente leggendo i testi delle carte del caso è difficile capire al meglio cosa sta per succedere ci sono sempre stati ma nello yugio antico chiamiamolo così della mia e penso anche dalla tua infanzia a noi importava veramente poco cioè si buttavano le carte sulla ghiaia come l'asso di bastoni e ci si goderà la partita e fine lì per giocare seriamente a yugio ora è importantissimo almeno conoscere nel dettaglio tutte le interazioni particolari del proprio deck e quindi della propria strategia e se non volete avere problemi o essere potenzialmente fregati in buona o cattiva fede dei vostri avversari tornei sarebbe consigliabile prendersi un bel po di tempo per giocare studiare anche i mazzi che circolano attualmente nel meta chiaramente non è un qualcosa di banale da fare e mi rendo conto che possa sembrare assurdo a qualcuno che vuole iniziare da zero anche perché è innegabile che questa sia una barriera abbastanza importante da superare ma questa complessità che contraddistingue il gioco moderno è anche uno dei punti più apprezzati da buona parte della community beh diciamo che però rievocare un mostro sul terreno di gioco dopo anni è stata una vera emozione per un nostalgico come me e questo può essere di certo un punto a favore non credi assolutamente sì so che probabilmente se siete arrivati a questo punto del video magari vi avrò dipinto un quadro del gioco non troppo positivo ma in realtà se yugi vi piace tantissimo e volete semplicemente rivivere i bei vecchi tempi ci sono tanti modi per divertirsi e godersi questo incredibile tcg ispirando nostalgia e ne approfitto per elencarne alcuni in primis potete semplicemente giocare con gli amici a casa vostra impostando le vostre regole banlist e power level dei deck o se è un qualcosa di troppo pesante da fare konami offre simpatici scatolotti di speed duel una modalità alternativa di gioco con mazzi precostruiti già pronti ispirati all'anime che per giocare in compagnia ogni tanto sono probabilmente il prodotto migliore che posso consigliarvi alternativamente parlando sempre di nostalgia pacchi da poco konami ha canonizzato i vecchi formati per capirci meglio avete la possibilità di rivivere i vecchi metagame dei tempi passati e ci sono moltissime community in italia o anche estere che fanno tornei letteralmente a ruota tutti i giorni probabilmente troverete anche dei gruppi che giocano in real nei vostri dintorni e se volete tornare in pista dopo tanto tempo senza impazzire per imparare tutte le nuove meccaniche aggiornarvi con il carpool i mazzi del momento e tutte le altre cose complicate io consiglio di riavvicinarsi al gioco magari proprio grazie al got format del 2005 o all'edison del 2010 che ultimamente stanno andando molto di moda sono formati molto più gestibili i mazzi solitamente costano molto meno rispetto a quelli del gioco perdonatemi il termine normale ed un domani quando vi sentirete pronti e se avrete voglia di farlo potrete tranquillamente buttarvi nello yugi standard da quando ho appeso il duel disc al muro quante carte sono state pubblicate ed è un bene averne un numero così astronomico a propria disposizione se si vuole iniziare o tornare a giocare non so precisamente quando è smesso ma da quel che ho capito attorno all'era link quindi ipotizzo 2017 2018 una risposta precisa non riesco a dartela ma sicuramente sono uscite tantissime carte da allora attualmente tanto per curiosità ci sono 12.000 carte qualcosa in giro di yugi e come ho già sottolineato prima tranne quelle imbanned sono sempre tutte giocabili chiaramente è una cosa interessantissima perché da un lato il carpool così importante e potenzialmente sempre vivo può essere un altro ostacolo veramente grosso per un nuovo giocatore perché poverino piano piano deve recuperare almeno gli effetti di quelle vagamente giocabili e questo chiaramente può essere un processo veramente lungo e trovarsi contro strategie carte che non conosci e non sai come fermare è sempre un'esperienza abbastanza frustrante dall'altro lato però questo carpool sempre vivo e soprattutto sempre in espansione mese dopo mese qualche volta crea interessanti colpi di scena magari una carta che è stata inutile anche per dieci anni finalmente si incastra bene con un tema appena stampato da konami oppure ora c'è un modo comodo di evocare una cartina a fine combo e quindi non è più inutile si gioca o ancora più spesso il meta cambia e quindi quella carta lì che non si è mai filato nessuno è stranamente utile ed è la carta più utile per fermare il mazzo tier 0 del momento e altre situazioni del genere questo è tutto vi ringrazio per essere passati a dare un'occhiata al video ci sarebbero tante altre cose da dire riguardo a yugi ma non basterebbe un documentario di tre ore probabilmente per spiegare tutto al meglio se avete dei dubbi per qualunque cosa sono disponibile qua sotto nei commenti oppure potete passare sul mio canale un saluto e alla prossima ciao ciao grazie infinite a te umba per aver risposto in modo chiaro e conciso ad ogni mia domanda quindi per approcciare uno dei grandi tre dopo i suoi cambiamenti di opzioni possibili ce ne saranno e come rivolte anche ai nostalgici che vorranno tornare a calcare i campi di gioco evocando ancora una volta i loro mostri preferiti personalmente esplorerò i formati goat ed edison oltre che a portare avanti lo speed duel e a proposito di quest'ultimo vi piacerebbe vedere qualche contenuto a riguardo scrivetemelo qui sotto e voi quale aspetto di questo tcg iconico prenderete in considerazione come sempre fatemelo sapere nei commenti mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei tcg vi ringrazio di essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video